A Roma si chiamano buffi, ecco hanno fatto talmente tanti buffi così lo capiscono tutti e li hanno fatti perché attraverso i buffi hanno costruito il consenso politico e ora li si sta ritorcendo contro perché hanno detto a tutti tanti sì senza una strategia per cui oggi ci sono ma non solo purtroppo i lavoratori del trasporto o le aziende del trasporto ma quelli della formazione professionale, quelli che hanno fatto gare a parti sulle costruzioni. Nelle aziende sanitarie nessuno riceve la liquidità degli impegni che si sono presi ma non per 4-5 mesi, alcuni 2-3 anni e quindi noi dobbiamo cambiare perché ci saranno i programmi non c'è dubbio però adesso non voglio banalizzare ma la grande vera rivoluzione è cambiare la cultura politica che ha portato a una gestione della cosa pubblica come saccheggio della cosa pubblica e che porta ancora in queste ore a fare nomine di dirigenti per tre anni a 130 mila euro come accaduto. Ci sono sette di incarichi da rinnovare ancora in Regione e qui i giornali anche di questo parlano oggi. L'articolo l'ho letto anch'io e fa riferimento se fosse vera a una indicazione scandalosa che a 20 giorni della elezione si ripromette di promuovere o di confermare incarichi per anni. Ma io parlo della carica individuata di amministratore dell'agenzia Lazio Ambiente fatta alcuni giorni fa che per tre anni dà a un signore che se non ho capito bene fu candidato perdendo alle elezioni comunali di Frascati, questo è il suo merito, per 130 mila euro l'anno. Poi come lei diceva la gente è furibonda ma ti credo che è furibonda però l'appello che faccio io è che poi questo saccheggio della cosa pubblica ha dei nomi e dei cognomi e io faccio un appello molto sentito a tutte le associazioni di categoria delle forze produttive che pure sto incontrando e delle associazioni datoriali del commercio, dell'artigianato, delle aziende, tutti si uniscano in un grande appello e anche tutti i candidati, tutti a queste elezioni regionali, un appello alla regione Lazio di sospendere qualsiasi nomina o dato che fatto a 20 giorni dal voto puzza, perché la parola è puzza di saccheggio delle risorse pubbliche.